Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della 32esima giornata del campionato di Serie A. Turno assolutamente favorevole all'Inter nella lotta a Scudetto, Nerazzurri che vincendo agguantano il Napoli al secondo posto in classifica e si portano a meno due dal Milan capolista. Il tutto con una partita in meno. Iniziamo appunto parlando dell'Inter. Inter-Verona 2-0, niente da dire, vittoria assolutamente convincente per i Nerazzurri. Migliore in campo per Iricic, due assist, parecchio ispirato e tanta corsa da parte sua. Primo tempo dell'Inter molto buono dal punto di vista dell'intensità e della pressione. Ho visto poi anche delle buone trame di gioco. Secondo il mio tempo invece in cui i Nerazzurri sono stati più bassi e di contropiede, tuttavia non hanno corso nessun rischio e hanno portato a casa questa vittoria. Per lo Scudetto, io l'ho già detto, lo ridico e lo ridirò ancora. L'Inter è la favorita perché è la squadra più forte, è quella con il calendario più agevole ed ha anche una partita in meno. Pareggia invece il Milan, 0-0 in casa del Torino, una partitaccia. Un Milan appannato negli ultimi metri. I giocatori facevano infatti fatica a superare gli avversari contro un Torino denso, compatto, che chiudeva gli spazi agli avversari. Ogni tanto ripartiva anche in contropiede senza però avere il giusto mordente negli ultimi metri. Dall'altra parte ho visto un Milan a lunghi tratti bollito, un pochino meglio negli ultimi minuti quando c'è stato il calo del Toro. Rosso-neri dove poi tra l'altro non ho neanche condiviso i cambi di Pioli perché non ho capito la scelta di togliere Tonali, che stava giocando bene per mettere Krunic e poi ha anche la scelta di mettere Messias al posto di Brahim Diaz. Va bene, Brahim Diaz, prestazione insufficiente, ci stava a mettere Messias però personalmente avrei messo Messias al posto di Salemakers. Cade poi il Napoli, sconfitta 3-2 in casa contro la Fiorentina che i partenopei lasciassero dei punti per strada nero sicuro, non in questa giornata dove mi aspettavo una loro vittoria, però sapevo che prima o poi dei punti li avrebbero persi. Un Napoli che conferma ancora una volta di non avere la mentalità vincente, la mentalità da grande squadra perché supera un esame corposo con tutte le questioni del caso per poi toppare l'appuntamento successivo. Parlando della partita ho visto un Napoli senza personalità, bollito, una squadra in inferiorità numerica a centro campo dove tra le tante cose ha perso la partita, una squadra che giocava unicamente lanciando in profondità Ozyman, ma la cosa più grave secondo me è stata il non avere le forze mentali per cercare di ribaltare la partita, una qualvolta aveva trovato il gol dell'1-1 e poi almeno di raddrizzarlo dopo aver segnato il gol del 2-3. Per come vedo io il calcio poi, soprattutto quando giochi in casa contro una squadra più debole di te, non esiste che una qualvolta se è andato sotto e pareggiato la partita poi vai nuovamente in svantaggio e perdi. Sono cose che proprio io non riesco a concepire e se una squadra fa così vuol dire che è segno di poca personalità. dal mio punto di vista. Per quel che riguarda la Fiorentina invece, ottima prestazione, complimenti davvero alla Viola, ho visto una squadra coraggiosa, una squadra che è scesa in campo senza paura, faceva un pressing alto, bene poi il centrocampo in fase di non possesso e complimenti anche all'allenatore italiano per aver letto molto bene la gara, ha azzeccato i cambi, una qualvolta la Fiorentina ha subito il gol dell'1-1, non si è abbassata, non si è contentata del pareggio, ma è stato bravo l'allenatore ad effettuare le giuste sostituzioni perché toglie Duncan per mettere Malè, un centrocampista con doti più offensive del ganese ex Sassuolo, Malè che quando è entrato ha fornito un assist, e poi anche l'ingresso di Iconè, Iconè che entra al posto di Saponara e segna il gol del momentaneo 2-1 della squadra, Fiorentina tra l'altro che con questa vittoria si porta al settimo posto in classifica. Tra le altre poi vittoria della Juventus 2-1 sul campo del Cagliari, solita vittoria della Juve, poco gioco però 3 punti, 3 punti arrivati di inerzia nel secondo tempo. Lotta Europa League, la Roma vince 2-1 in rimonta contro la Salernitana e si tiene al quinto posto in classifica. Una vittoria sudata, per il resto non posso dire altro perché non ho visto la partita. Bene la Lazio, 4-1 in casa del Genoa, una Lazio che sta vivendo un buon momento di forma, squadra sicuramente in crescita nel girone di ritorno, tralasciando il pessimo derby giocato contro la Roma, però comunque sto vedendo una squadra che sta pian piano assimilando i dettami di gioco dell'allenatore. L'Atalanta poi perde 2-1 in casa del mio Sassuolo, una vittoria veramente esaltante da parte dei via i neroverdi. Torniamo a vincere contro l'Atalanta dopo tantissimo tempo, una buona prestazione di squadra, un Sassuolo meno sfavillante, scintillante di altre volte, però una squadra comunque attenta, compatta e coesa. Ottimo pressing offensivo e una squadra poi velenosissima ogni qualvolta attaccava in contropiede. Mossa tramite la quale abbiamo segnato i due gol, abbiamo poi creato altri pericoli, vedi i tre pali colpiti. Dopo il 2-0 il Sassuolo ha abbassato il varicento, senza comunque correre grossi rischi. Anche ispirato il terzo gol su un'azione di contropiede. Il gol subito negli ultimi secondi si poteva anche non prendere, errore della difesa, più precisamente errore di Ruan, però partita praticamente chiusa, quindi non è neanche una cosa così tanto grave così da condannare. Guardando poi le prestazioni dei singoli, bene consigli, quando è chiamato in causa compie delle buone parate. Difesa tutti sufficienti o anche qualcosa di più, Chiriacopoulos ha fornito l'assist per il primo gol di Traoré. Centrocampo ottima la prova di Maximo Lopez, uno dei migliori in campo che ha diretto molto bene il centrocampo, ha distribuito ottimi palloni. In attacco Berardi partita sufficiente, ha commesso qualche errore, non la sua miglior gara stagionale. La coppia più bella del mondo, Raspadori-Scamacca. Raspadori non mi è piaciuto tantissimo, una prova un po' evanescente. La sua dolce metà, Scamacca, buona partita dal punto di vista del sacrificio. Migliore in campo, assolutamente Traoré. Traoré molto ispirato, salta diverse volte l'avversario, segna poi una doppietta, primo gol veramente bellissimo, primo gol un'opera d'arte, un gol da attaccante vero. Visto che mi sto esaltando, vi dico, primo gol di Traoré, un gol da Sergio Elkun Aguero. Primo gol di Traoré, un gol da Sergio Elkun Aguero. Primo gol di Traoré, un gol da Sergio Elkun Aguero. Primo gol di Traoré, un gol da Sergio Elkun Aguero. Per quanto riguarda il discorso Europa, dico, abbiamo davanti a noi squadre più forti, esclusa forse la Fiorentina, non arrivarci non è assolutamente un fallimento. Il problema è che in questa stagione, nel girone d'andata, non sempre siamo stati sul pezzo al punto giusto, non sempre siamo stati concentrati quanto si doveva e quindi abbiamo lasciato in giro dei punti. Questo sassuolo comunque è più forte di quello dell'anno scorso, anzi, il sassuolo di quest'anno è il più forte di tutti i tempi e se si vuole almeno, almeno, lottare seriamente per un posto in Europa, poi magari non ci si arriva, però lottare seriamente per arrivare lì, sesti o settimi, bisogna fare solo una cosa. Non disfare la squadra, non disfare la squadra, non disfare la squadra. Solo in questo modo, l'anno prossimo si potrà, almeno, almeno, lottare seriamente per andare in Europa, per arrivare lì, sesti o settimi. Lato Atalanta, invece, ho visto una squadra appassita e senza benzina. si nota che Duvan Zapata è rientrato, infatti, teneva sui palloni, faceva salire la squadra, una dea che non ha iniziato neanche malissimo la partita, però si vede proprio che manca quella ferocia che ha distinto l'Atalanta negli ultimi anni. Parlando poi, invece, della lotta salvezza, hanno perso quasi tutte, le ho già nominate più o meno tutte, la Sampdoria perde, appena perso 2-0 contro il Bologna, però rimane in una posizione di classifica tutto sommato tranquilla, pareggio liscio, 0-0 tra Empoli e Spezia, e poi solita sconfitta del Venezia allo stesso modo, 2-1 nel derby del Triveneto contro l'Udinese. Sconfitta che arriva nei minuti di recupero, dopo che la squadra di Paolo Azzanetti era riuscita a trovare il gol del pareggio con Henry. Un Venezia che, assieme alla Salernitana ultima in classifica, ormai lo vedo già retrocesso, perché, insomma, se una squadra continua a perdere partite in questo modo, capisci che di personalità per rimanere in Serie A non è che ne abbia più di tanta. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il diario dell'ultima giornata di Serie A, fatemi sapere cosa ne pensate, io come al solito mi invito a scrivermi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciar un commento, a lasciarmi un piace, a spammare questo video, in ogni singolo punto del plan di spero, detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. vi saluto, ragazzi. Grazie.